benvenuti ragazzi in questo video che come sempre oggi siamo qui di nuovo su minecraft per il terzo episodio di skywalk e siamo sempre in compagnia di Gerardo del team game sempre presente raga sta registrando si ok sta registrando ok allora vediamo un po ah lì c'è una cesta eravamo rimasti in questo punto che cos'è qua oh vieni qua vieni qua aspetta 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 che cazzo bello lol è una porzione di danno istantanea questa è la nostra terza parte e continuiamo con il Skywalk 1 dobbiamo salvificare 13 oggetti per aprire la porta io ne tengo 29 osso ok e pure io ne tengo 35 osso ne butto? si si in ogni buco ma no tutte picco fail e ora? e ora ma df ci vanno ancora da che parte lol non si sa perché fa così tutto a facco non l'ha messa da nessuna parte ma cazzo ma ci sono dappertutto eh boh io qua metto sempre ma cioè è un bug ma infatti si sono scomporsi tutti però aspetta brutta testa di merda no però qua per esempio sono attivate le vedo proviamo a buttare items diversi tipo sto buttando un filo il blades qua c'è tutto infatti siete butti tutti diversi secondo me erano le osse che erano buggate si ci abbiamo fatto no aspetta no allora ha salvato che cazzo è una salvata roba dove manca? manca da qualche altra parte penso che cazzo? cosa? zocca tu ottimo primo tip tip top tip top no secondo me è bugata apriamo apriamolo dove cazzo sono? si secondo me è una bugata vabbè noi ogni caso apriamolo ma si secondo me era bugata si sicuramente allora timore di il mondo il senso tu non lo calcio non lo metto non lo chiesa non lo no oh no diamanti ehi ehi livello inferno ah ok che cazzo sta roba ci sono le teste per saltare anche sulle teste ah infatti sono morto è più spazio secondo tip della giornata facciamo come sembra un salto tu o un salto io io sono morto oh perfetto tipo di dove cazzo dobbiamo andare? adesso o la sinistra mandi qui fermo ah sono morto sono morto ma perchè muoio? quando mi tipo in volo muoio vabbè è normale dove dobbiamo andare? ok qui sono morto sono uno stronzo eh lo so rivieni ok vai sei venuto? si si ok fermo lì sono morto cioè ti rendi conto ti rendi conto sono una merda proprio Gesù cazzo hai preso posto da là? eh no stronzo no da là ma dove sei tu? io sto dietro di te ah ecco ora ti vedo ma non riesco a saltare oh c'è una casetta lì c'era una casa molto carina e già so qui ferma ora dove hai metta sei? ah sei lì sono morto esatto tipo a mandingos vai tanto sei ripato? si si ok qua in pratica è una che è dritta non mi dici che sei morto qua perchè no no abbiamo raggiunto il livello non ho letto level 9 si 3 more stage to keep it out ok lascio a leggere a leggere ok settiamo la notte uh le palle di niva vabbè dormiamo perchè dormi tutto all'incontrario? perchè sono un pro ah intanto siamo a 6 7 quasi questi 7 minuti 6 minuti e 30 no aspetta mi sono saluto ma vuoi dormire? eh sto dormendo non sei dormendo si io qua mi dicesse dormendo vedi alza dita hai visto? ok c'era forse bargain ehm oh viral grazie mille tesoro sai che ti ho buttato? coso? ma buon misericordio il basso di denito il miglior di romanzo il miglior di romanzo dove cazzo dove cazzo c'è noto? level 9 blizzard c'è nato fuori stronzo esatto ok level 9 del blizzard che bello sei morto si pure io come sei morto non è buono oh c'è zona dall'inizio ah ma inizio inizio ma non moriremo e più per quello motivo perchè se no all'inizio inizio se no noi mettiamo la gradiva torniamo giusto non ci vuole molto capirlo vabbè ma io non volevo sei morto? si ah pure io wow come cazzo puoi uh tutte bottiglie bucotte vai via via zucchero di me fermo io mi stavo fermo ma non stavi fermo prima ok vai vabbè vedete aspetta non salire ancora su quella cosa perchè? ma non lo so cosa vuole come può essere può essere una tnt come può essere un aiuto ok vabbè un aiuto eh però capirà no aspetta allora no ma questo va solo con le persone salta no eh ce l'ho riuscito ma io non ti vedo ora aspetta aspetta ora mi vedi? no sto dentro di te ah merda non ti vedo ah infatti la eh son morto fammi da qui a me vai vai vado si 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 vai vai sono morendo come un porcellino d'india aspetta aspetta vado pure io io voglio sempre io voglio sempre vabbè vai vai non ci saltare mai prima su quelle cose potrebbero essere tnt aspetti aspetta aspetta ce la faccio così ecco qua vai fai dei salti e ne faccio uno vai aspetta aspetta ok vai ok vai ma vai ma no ma no tira qualcosa allo so ora c'è l'arresto qui ti fa più avanti dai mi sci ahahahahaha son morto cazzo ok ci sono riuscito si sei rifato? ah si ma la pressa si è rotto lo so perchè ci ha tirato un osso sopra ok fermo aspetta son morto bello Oddio ho rotto il filo Vai vai No no sono morto Pure io Che cosa ho avuto Poi giovani Allora mio Vai vai Mi vedi Sì sì Ok fermo sì Figlio di puttana Scusa No no che bastardo No no Dove devo andare Allora devo le trovate Mi devo prendere la mia vendetta No 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 Cazzo è il suo rumore Ecco Già te la sei presa Sono morto Buona buona Mai salta Un altro E ora fermo Salto Vai Aspetta Aspetta Vai Vai Pippati Oh benvenuto a livello 10 Dai Doveva essere il paradiso Bello Sono lì c'è un accesso Andiamo Andiamo Boom Mi sono perso Pure io Aspetta Ma tu sei mai da fucking game No 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 Scusiamo qualcosa qua Dito Lì c'è una porta comunque Oh smeraldo Perla del lander Eh tu non sai quanta roba c'è qua Sono morto Grandissimo Lo sa signori sono Johnny Nick Si C'è il cibo Non è il cibo L'ho preso tutto No no mi sono preso il pollo Pollo crudo Vedi Te lo do Un pollo Ti si è fottuto proprio tutto Ti si è fottuto Ma io tanto li poso nella cesta Io in ogni caso Noi dormiamo Dormiamo Senta Dormi dormi Beh babbino Dormi dormi Vediamo quanto sta Siamo qui 13 minuti 13 minuti e 18 Morto Ma che cazzo muoio sempre però Oh madre a fucking Oh madre a fucking Ma cosa c'è qui Oh 6 carboni 16 carboni Fottiti tutto Si lo so Fork ben Se non mi serve No ma voi c'è pig Ciao un po' Poschiti marta morito Ma no 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 Il cidra Il cidra Perché Stai stando qua vuol dire che ci servono Oh mar Uno è caduto giù Ma no È caduto giù Ma che cazzo No Aurea no Non puoi farmi questo Ma come Come hai fatto Oh no mi piccola Come hai fatto Guarda che pacca pochia Mi fai cadere giù Come la sella Se perdiamo il maiale Vediamo tutto C'ha due cuori Perché perdiamo tutto Se Ha colpito il terreno troppo forte I see you are living You can dump your pig here The pig doompenator Lo sapevo Oh marito Che cazzo è sto Dopiglio No c'è un po' Il comando Dello spawn Ma lo facciamo Boh Aspetta Ma che cazzo è sto Dopiglio Voglio andare Vai No 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 Andare Ci butto la roba Lei va Ti le ho dite alle voce Perché ci butto la roba Non so Andiamo a vedere cos'è Non so Vuoi entrare Ah si Voglio entrare Ma capi Muore il porco Ah Muore pure tu Ti farei morire Ma sei peccato Sali Mi devo ti porti No ma sei lo stronzo E non fatti niente Ti butto la mano Pollo crudo Vado No aspetta Mi vado io Ah ok E perché non ti ho visto Allora Ma vado io Ok Vado Ma vado io Ma che cazzo è qua Vado Vai vai No impossibile Impossibile Is nothing Oh mio dio Sto qua fuori Oh tipa 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 vedi tu vai Ma qua è facile Aspetta 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 Vado prima Allora Il problema è quello dopo Ah infatti Aspetta Se i blocchi che li abbiamo presi li possiamo usare Quindi li possiamo usare quelli che li abbiamo presi Olè C'è almeno credo Sì Perché ce li avevano fuori Ah infatti Io non ce ne ho più però Che cazzo è successo? Sono morto C'è c'è tumori così buono Eh perché sono strunzi Ma so Ah grazie Non ti permettermi più difendere il nostro team Non ti permettermi più difendere il nostro team Ah No La tua vendetta è bassa Ma noi siamo paesi Di vendette Aspetta Aspetta Oh aspetta Vai vai Sono c'è un niente Aspetta Aspetta Vabbè va Vabbè va Wait in game Sono morto Oh è tommeno il suo riblock Oh merda Noi qui ci sono tnt Oh merda Avevo ragione Fanculo Vaffanculo Mannaggia Mio mio addio Io planzibiazzo Blocchi perché voglio andare sicuro Ma dove le hai presi tutti i blocchi? Non stavano nelle ceste Ah quella che ti si è fattuto Oh sposta Ti sposta Ti non credo Sì per forza hanno messo i filamenti Lo ho Morto Ok dippati Vaffanculo 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 Trovi Dai 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 ce la passiamo qua Non andare sulle pezze Un fake Sono morto Ahah Mannaggia la miseria Mannaggia Cazzo I porchi 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 colorati Bugs Bunny Ah Ah Sono morto Non andare sulle pezze Nooo Sono morto Pure io Pronto a scappare Pronto a scappare Pronto a scappare Comunque stiamo registrando da 20 minuti Come 20 minuti? 19 merda Oh mio dio Vabbè un video di 20 minuti non fa mai male Dove stai? Ah per lì Sono andando avanti Zedatine game Penso che sia sparato tutto Perché sennò sono preso il play Infatti è sparato Cosa sei? Sto io di te Vedi non morire? Io ci provo a non morire cioè Cioè adesso termiamo pure l'episodio Siamo a livello 11 Eh c'è il primo militare Sono morto Ma come si fa? Come si fa? Porca puttana Vieni e termiamo qui l'episodio Eh Ok quindi come al solito Si ragazzi eccoci nel mondo dei funghi Parte 3 Conclusa Se ti è piaciuto Individiamolo se non mi piace un commento Tranne sul tuo canale Non è vero E quindi dare le putt e anche da Geardo Affanculo stronzo Affanculo È tutto Tutti in merda Al prossimo video raga LOL Ciao aspetta aspetta che lo chido prima Ok Ciao a tutti So stronzo di martri So stronzo di martri Ciao a tutti